Il Libra Maldi spiega che nelle trasformazioni cicliche il sistema fisico ritorna nello stesso stato iniziale e siccome l'energia interna è una funzione di stato, alla fine del ciclo torna ad assumere il valore che aveva all'inizio per cui la sua variazione netta in un ciclo è zero. Perciò il primo principio della termodinamica, anziché Q uguale lavoro più ΔU, diventa semplicemente Q uguale lavoro, in quanto ΔU è zero. Cos'è Q? Il calore netto scambiato dal sistema termodinamico, il nostro gas perfetto, nel corso dell'intero ciclo. Che cos'è? W è il lavoro subito o compiuto in modo netto dal nostro gas nel corso dell'intero ciclo. Al termine di una trasformazione ciclica il calore totale assorbito o ceduto in modo netto all'ambiente esterno è uguale al lavoro totale compiuto o subito dal gas in modo netto nel ciclo intero.